Conosco molto bene i cani, in questo momento ne ho tre, mio padre li ha sempre avuti, è stato un cacciatore, quindi ho una grande rimestichezza con questi animali. I cani sono animali molto fedeli verso l'uomo, lo rispettano, subiscono anche violenze dall'uomo, subiscono violenze anche dal suo padrone, però tutto ha un limite. Ho esperienze di amici, di conoscenti che hanno maltrattato il loro cane e il loro cane ha avuto tanta pazienza con loro, ma a un certo punto questa pazienza del loro cane è sfociata in aggressione verso il padrone, verso quel padrone che rispettava, verso quel padrone che dopo ha cominciato a maltrattarlo. E molti cani hanno morso il loro padrone. Succederà questo anche per tutti coloro che in questo momento cercano di maltrattarci, quasi di sopprimerci, fino adesso siamo stati pazienti, diciamo tra virgolette con i nostri padroni, però tutto ha un limite. Probabilmente succederà come quei cani che hanno subito violenze dai loro padroni, ma a un certo punto si sono stancati e hanno morso e assalito il loro padrone. Ecco, forse la gente piano piano assalirà i nostri padroni. Loro non ci credono, ma succederà questo, che prima o poi qualcuno comincerà a mordere, ne sono sicuro.